Scusa, ci abbiamo parlato? Ah, che dovevo parlare con i miei genitori se mi davano i soldi. Ci siamo? Come? Ci siamo? No, cosa avevamo parlato? Allora, noi abbiamo parlato riguardo il progetto dell'Amazon riguardo investimenti controllati. Quello che abbiamo parlato ieri praticamente è riguardo il progetto, che la tempistica di solamente 5 giorni è praticamente con qualsiasi cifra che lei può entrare avrà un percentuale di profitto da 35 fino al 127%. E se i soldi non ne ho come facciamo? Non ti credo. Non mi credi? Guarda che adesso, allora io sono su Facebook, giusto? E non so perché mi hanno tolto la monetizzazione, senza un motivo. Ma tu puoi fare qualcosa? Io sono su Facebook, giusto? C'ho una pagina Facebook. Mi senti? E mi hanno tolto la monetizzazione. Ma è possibile questa cosa qua? Può fare qualcosa? Tu conosci qualcuno su Facebook? No. E come dobbiamo fare? Non posso fare soldi adesso. Come faccio? Ma io non sono qua per darti le soluzioni riguardo... Eh, ma tu mi devi aiutare, tu mi devi aiutare. Come ti chiami Giulia? Come ti chiami? Io sono Ilaria. Ah, Ilaria, Ilaria. Di dove sei Ilaria? Di dove sei? Da origine oppure... Origine? Eh, certo, certo. Io ho detto di dove sei, no? Di dove mi... Dimmi. Sono spagnola. Sì, sì, spagnola. Come no? Non ti piace Spagna? No, ma non è vero che sei spagnola. L'accento non è spagnolo. Perché devi dire bugie? Ilaria. Perché mi dici bugie? No, non è nessuna bugia. A me non mi interessa questa parte. A me sì. Voglio sapere dove sei. Sono molto contenta che sono da Spagna. Allora, hable spagnolo? Ovviamente che sì. Però siccome stiamo parlando in italiano, dobbiamo parlare in italiano, no? Tu sai che cos'è la mesa? Non ce l'ho. Ah no? Non sto scherzando io qua. E neanche io sto scherzando. Hai capito? Perché mi devi dire bugie? E' un altro discorso. Ma non è una bugia? Ti piace oppure no? Io sono da Spagna. Sì, vabbè. Che c'entra la mia origina con quello che io ti sto offrendo? Origina. Allora, sei interessato di partecipare sul progetto sì oppure no? Perché non ho tempo da perdere con te. Sì, ma io già te l'ho detto ieri che non sono interessato. Perché ancora mi chiami? Perché te mi hai detto chiamami domani perché parlerò con i miei genitori. O non è così? Eh, glielo ho detto ai miei genitori. Mi hai dato uno schiaffo. Cosa gli hai detto? Mi dai 200 euro. Gli hai detto, mi hai detto Ilaria se mi puoi dare i soldi. E mi hanno dato uno schiaffo in faccia. E mi fa male ancora. Ok, ok. Va a lavorare. No, tu vai a lavorare. Va a lavorare. Truffatrice. Io sto lavorando e guadagno tanto. Invece te ti mantengono i genitori e non hai nemmeno 250 euro. No, non ce l'ho. Quindi pensa un po'. Non ce l'ho. Quindi? Eh. Quindi? Eh. Chi dovrà lavorare? Io oppure te? Ma io almeno quando non vado a rompere le scatole alla gente. Come te. Che chiamo? Invece io non sono un moro di fame. Come te. Hola. Hola spagnolo. Hola como stas? Dai. Como stas? Un abbraccio caro mio. Ciao, ciao. Vai, vai, vai a imparare. Vai a imparare. Tipo le aree come si deve perché non si dice così. Ah, come? Oh. Ciao, sono di merda. Ah. Vai, vai, vai a morire. È tutto registrato. È tutto registrato. Figlio di Pistana che non sei altro. Vai, fatti in culo. È tutto registrato. Sono molto professionali questi del call sender. Guai chi li difende. Grazie a tutti.